Le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia. Si è aperta con la cura di Franco Battiato, cantata da Giovanni Caccamo, la presentazione del libro curato da Riccardo Bonacina, io avrò cura di te, la chiamata per il bene comune. Il volume raccoglie tutti i pronunciamenti di Papa Francesco in questi dieci anni sul tema dell'accoglienza. La scoperta bella è stata che lui pian piano in Italia e non in Argentina scopre questo fenomeno del volontariato e dice ogni volta che incontra i volontari, in particolare dalla pandemia in poi, mi raccomando, questo è il tesoro culturale più bello che avete, mi raccomando custoditelo, mi raccomando seminatelo. E quindi è un grande invito a tutti noi. La presentazione è stata fatta in occasione della giornata internazionale del volontariato nella Basilica di San Mignato al Monte a Firenze. Il libro avrò cura di te dice appunto la cosa più importante, che per fare volontariato bisogna avere questo spirito di avere cura delle persone e anche dell'ambiente. Credo che nel volontariato si dia la grande occasione di riqualificare la dignità della nostra persona umana, perché essè tale nella misura in cui prova a schiudere se stessa, ascoltando finalmente i bisogni degli altri, lasciando che siano i bisogni e le necessità degli altri, ad essere una sorta di traino, di energia nuova con la quale scoprire delle potenzialità che nemmeno credevamo di avere.